Siete pronti? La maratona di Diamond Jim sta per iniziare. E per finire, il bocconcino più piccante che abbiate mai visto, la dolce pampi. Sono tutta tua. Non ti basta? Le vuoi ancora? Prendi il telefono e chiama! Potresti essere tu il fortunato bastardo che si aggiudicherà uno di questi premi da spallo. Signore, abbiamo una pista. No, non di quel genere. Li hanno vistati all'ospedale. Diablo, rivolto all'ospedale. Dick, Lance, frugate il campus. Forzatemi quei miserabili prima di sera. Grazie, tesoro. Sei fantastico, Lance. Ciao. Ok. Siete due bombe, ragazze. A dopo. Fatemi passare. Andiamo via di qui. Ma che cazzo? Ecco, io... Ehi, che c'è da guardare, che c'è? Oh, ma io non ho ordinato la pizza. Beh, ecco, può essere che abbia sbagliato indirizzo. E che cosa hai lì? Ho una grande salsiccia e due enormi polpette. Mh, sembra perfetta. Prendo il prestito alla tua macchina. Arriba la pizza. Grazie di questo odore. Ma che strano, ti ricordi se abbiamo ordinato una pizza? Non è vostra. Ma abbiamo finito i soldi. Fammi pensare, non è che per caso c'è un altro modo per pagarti? Non saprei, ma possiamo trovare un accordo. Ma non capisco, chi ruberebbe macchine per le consegne? Sono io che devo capire. Tu vai a farti cambiare il pannolino dalla mammina. Rombo di tuono. Ti ascolto. Una nuova missione per l'A-Team. Ho trovato il bandolo della vattaccia. Oh, Roger. No. Prendete. E' successo qualcosa? Adesso mi sento un po' nervoso. Adesso mi sento un po' nervoso.